Metro Leggera, ci stiamo lavorando anche su questo, sono 20 anni che se ne parla, questa amministrazione sarà quella che la farà partire, poi è ovvio che ci sarà un problema di costi di gestione, su questo diciamoci la verità come al solito, avremo un problema di costi di gestione perché parliamo di 3, 4, 5 volte il costo del normale trasporto pubblico locale urbano della Metro Leggera, quindi abbiamo dei costi moltiplicati e quindi bisognerà trovare un'intesa con la regione per la gestione, ma poiché parliamo di un'opera di 20 anni fa, noi abbiamo il dovere amministrativo e politico di ultimare i lavori e di consegnarla, poi c'è la vicenda della gestione per cui si apre un altro tavolo, ma noi al momento abbiamo un obbligo, completarla e consegnarla alla città, un obbligo su tutti, prioritario, e poi discuteremo anche della gestione che è un problema, è un tema, ma finché non la completiamo non possiamo aprire quella discussione ufficialmente, altrimenti si potrebbe dire ma voi avete completato o no, e allora di che parliamo, e avrete un bel ragione. Ciao! 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 Grazie a tutti.